Catturare l'area B La nostra squadra ha catturato l'area Bersagli nemici avvistati La squadra nemica ha catturato l'area La nostra squadra ha catturato l'area Agganciato! La nostra squadra ha catturato l'area Abbiamo colpito il nemico Siluri nemici avvistati Bersaglio colpito Nave rinca nientata La squadra nemica ha catturato l'area Bersaglio colpito Bersaglio colpito Sovralimentazione attivata! Ci hanno colpito! Ci hanno colpito! Altimo lavoro! Abbiamo colpito il nemico! Bel colpo! Sovralimentazione attivata! Siamo sotto attacco! La situazione è sotto controllo! Ottimo lavoro! Siluri! Bersaglio colpito! La nostra squadra sta per vincere! Sovralimentazione attivata! La nostra squadra sta per vincere! La nostra squadra ha catturato l'area! La nostra squadra sta per vincere! La nostra squadra è la nostra squadra! Grazie a tutti